C'è sempre. Dice chi? Il critico. Cioè ho già fatto altri video sul critico, sulla critica, te li puoi andare a vedere da solo, nemmeno te li linko, te li vai a cercare, se vuoi. Oggi però ti voglio parlare non tanto quindi della critica del critico, ma del modo, di un modo, per mantenere inalterate le tue energie positive. E l'unico modo che esiste è mannaffan***o. Scherzo, scherzo, scherzo. Cioè non tanto, se vuoi provaci, però ti parlo di un altro modo. Ora, il lunedì, quindi inizio settimana, prenditi 10-15 minuti per focalizzarti solo sui feedback positivi che ricevi. Questo ti ricorderà quanto sei fantastico, quanto sei figo nel tuo lavoro mentre fai quello che stai facendo. Ed è importante ricordarselo perché il nostro cervello è settato in un modo particolare. Ovvero su 100 feed che riceviamo, noi ci distruggiamo sull'unico negativo che ci è arrivato e tendiamo a tralasciare i 99 stra-positivi. Ma se inizierai la settimana rapportandoti solo su ciò che ti piace e solo con chi ti piace, allora sarai caricato poi per affrontare tutta la settimana con grande positività, grande forza, grande determinazione e grande energia. E questo è un ottimo carburante per il tuo motore. Perché ricordati, più cresci e più non puoi piacere a tutti. Cacchio, è normale! L'invidia, soprattutto l'invidia, è un ottimo metro di misura del tuo successo. Quando fai grandi numeri ci saranno sempre più attacchi. Però qui c'è il lato positivo. Stai ricevendo più attacchi perché stai facendo grandi numeri. Buongiorno a tutti. Il snorso di state di notte è una strada di caosice lal signs. La scusazione di BlackB–C